La giornata universitaria 2014 dell'Istituto Toniolo ha generato nel 2015 135 borse assegnate per merito. Ha coinvolto in iniziative di orientamento 3.500 ragazzi e prodotto 485 borse per corsi di lingue. La borsa è stata assegnata ad Antonio Fattiglia Luigi Isaschi, a Salvatore Piazza, a Federico Franzoni, a Cristina Vecchi, a Leonardo Paoli Melli, a Francesco Regazzoli. Come mai ha deciso di donare una borsa di studio? Ho avuto notizia di queste borse di studio anche alla memoria. Mi si sono accese un po' di lampadine. Io mi sono lavorata in cattolica anch'io, con la media molto alta che io cercavo di tenere su, non ho mai pagato una lira di tasse. Quindi si sono incrociati questo input della borsa di studio con un debito di riconoscenza, perché in fondo sono stata aiutata anch'io, diciamo aiutiamo qualcuno e così mi fa. Noi abbiamo molti amici che fa riferimento all'organizzazione del Toniolo, che si sono laureati 30, 40, 50 anni fa, ma sono ancora legati alla loro università e cercano, in base alle loro competenze, di essere ancora inclusi in questa comunità, aiutando, dando una mano. Cosa significa per te ricevere una borsa di studio? Beh, la filosofia stessa dell'istituto comunque di sostenere gli studi di ragazzi meritevoli è anche molto, diciamo, da apprezzare anche quella, perché se in vent'anni le risorse all'istruzione sono sempre demonite, va molto contocorrente. Perché ha deciso di donare una borsa di studio? In memoria di mia figlia, che era iscritta alla facoltà di legge qui e che purtroppo non è riuscita a finire. Tutta la mia stima e la solidarietà nei confronti di questa signora, che è stata in grado di reagire ad una perdita così brutta, incanalando le sue energie in un qualcosa di così bello. Quando è che hai scelto la cattolica? La prima volta che entrai mi capì in quel momento che era lei, era la scelta giusta, era qui che volevo studiare. Cosa ricorderai di questa giornata? Forse una delle poche volte che mi sono sentito al centro, sentivo come Leonardo DiCaprio sul Titanic quando cenava con i ricchi. E pensate di restare in contatto? Io me lo auguro. No, speriamo, nel senso che ci siamo conosciuti ieri, però a volte... C'è stata sintonia, diciamo. Eh, ci siamo trovati in via. Anche con lui in generale. Beh, forse non vi rivedrete per un po'. Forse magari tra due anni ti sposi. Sì, prima andrò a trovare la ragazza, se no non devo dire. Per un momento, niente. Gli anni dell'università possono essere distrutti in tanti modi. C'è chi semplicemente si limita a dare esami. C'è chi invece viene e lo vive ogni giorno. Vi abbracciare le colonne come metafora del gustare appieno tutte le opportunità che questa struttura può dare. Mi viene quella frase, nessun uomo è un'isola, e questo deve essere molto radicato in noi. Non siamo per noi e solo per noi, neanche per il nostro piccolo mondo, ma dobbiamo avere uno sguardo molto aperto. Io sono una chiacchierona, eh, so che ride anche il suo collega. Io sono un'isola, è un'isola, è un'isola, è un'isola, è un'isola. Io sono un'isola, è un'isola, è un'isola. Io sono un'isola, è un'isola, è un'isola. Io sono un'isola.